4 giugno 1994 muore massimo troisi uno dei comici più amati del cinema italiano nella sua breve carriera troisi esplora le tradizioni napoletane seguendo le orme artistiche di eduardo de filippo e totò e li trasforma in una comicità irresistibile perché è spontanea innaturale nel 1996 è candidato all'oscar come miglior attore protagonista nel film il postino troisi scompare prematuramente a 41 anni per un attacco cardiaco